Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. In molti in questo periodo di Instagram spunta in modo abbastanza continuativo questo nuovo video. Vi prendete nient'altro che una parata che vuole mantenere in vita una serie di eventi chiamati moti di store, ma sono noti anche come movimento gay. Ciao ragazzi, io sono Sergio, il video non è finito, tuttavia volevo ricordarvi che nel link in descrizione potete trovare anche Trip, la mia webserie per i ragazzi controcorrente. Scoprite di che parla nel link in descrizione. Ciao! E quindi ragazzi mi raccomando fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordatevi che lo che critico lo serve.